Storica impresa del Benetton che vince in Sudafrica ad Urban contro gli Sharks che schieravano sette campioni del mondo. Una partita fondamentale per continuare a sperare nei playoff di URC. Una vittoria per 25-24, la prima nella storia in Sudafrica, voluta fortemente tanto che i punti decisivi sono arrivati negli ultimi minuti di gioco. I Leoni sono subito aggressivi e ottengono un piazzato da buona posizione. Marin non sbaglia al terzo. I Sudafricani reagiscono sfruttando la velocità dei tre quarti e Fassi va in meta al 14esimo. Masuku trasforma. Gli Sharks continuano a premere. Unce schiaccia il pallone a terra a coronare una lunga serie di carica al 23esimo. Al 35esimo, finalmente la prima meta trevigiana. Perfetta combinazione tra Brex e Menoncello, il centro miglior giocatore delle sei nazioni, semina il panico e va a marcare. Il primo tempo si chiude sul 12-8 per i Sudafricani. A inizio di presa, al quarto, i Leoni vanno in meta con una molla avanzante, timonata da Gianmarco Lucchesi. Marin trasforma. Gli Sharks, però, scappano ancora avanti con la progressione solitaria di Koch all'ottavo. Gli uomini di Durban cercano lo strappo decisivo e al sedicesimo Koch fa la doppietta. Dopo un calcio di Umaga, il sudafricano Murray viene espulso al 75esimo per una testata ai danni di Menoncello. I Leoni riescono ad andare in meta con Umaga. Servito dalla percussione potente di Zanon, a tre minuti della fine, lo stesso Umaga trasforma per lo storico sorpasso. I biancoverdi tengono nei minuti finali e festeggiano un successo storico. Sabato prossimo si replica a Pretoria, dove il Benetton è atteso dai Bulls.